dunque scendere e a questo punto ombrello non ombrello dato che ballano sotto la pioggia soprattutto per voi un minimo di partecipazione per lo meno noi stiamo preparando il tutto vi daremo un cenno quando potete cominciare portate più avanti il carro e fate scelta forse sarebbe il caso di non scendere un attimo perché piove troppo forte un attimo staccate stacca stacca un attimo preciso aspettavano voi per far piovere più forte abbiamo tre maschere singole va bene andate avanti grazie mettetevi tutti da una parte tutti da una parte e non muovetevi da qui perché la premiazione sarà solta subito dove voi adesso abbiamo tre maschere singole la coca cola, la lattina da coca cola fermare il filo all'angolo e qua abbiamo una gamma dell'ottocento e i vincetti dell'ottantasette avanti il lavoro gruppo i pirati i pirati c'è da gridare ma veramente è dal freddo per oggi dopo esservi ucciti andate anche voi alla destra del palchetto alla destra avanti tumore di stato l'altro gruppo è il ecco velocemente tumore forse avanti con l'altro gruppo dunque il cammino della storia i personaggi sono Adamo e Deva da Creopatra da Adamo e Deva Napoleone Bonaparte da Antalli Chieri Hitler Giuseppe Caripaldi ecco sfidate con la viga andate avanti via ecco un po' più avanti un po' più avanti Einstein Hitler Charlie Chaplin il cammino della storia Merrimoro Papa Moesila ma tutti 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 mi avete invidiato questa stupenda felicia questa felicia che è originale lascio una sfida gli anni del terrore gli anni del terrore il gruppo che c'è che si immagina certo è il carnevale che sono i libri sui sopra ma in fondo sono veramente il terrore del gruppo che sta attraversando adesso la piazza andiamo avanti con adesso il primo parro noi ci sentiamo con la gente che è qui ma purtroppo noi domenica non ci abbiamo neanche provato a far ripassare da questa casa a causa del filo non avevamo previsto l'altro incontro niente abbiamo difficoltà a girare che vadano diritto e ci perdino lì al centro della piazza grazie addirittura oggi la pioggia ha fatto uscire i morti dalla cara benissimo ho fermarsi un attimo nel carro come sempre noi vogliamo spiegarvi più o meno la torretta la gente che è qui sulla strada incomincia a spostarsi a poi a largo i bambini e dietro l'altro carro dopo la bilancia con la testa di De Mita e di Crazzi e poi la 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 bara oggi abbiamo anche il morto resuscitato dalla bara e poi due tubicini collegati dalla bilancia alla bara cioè al popolo italiano forse sarebbe il caso se c'è lo spazio di farne andare un pochino più avanti vediamo adesso se sconderate di lì il carro va più avanti un poco di spazio lì per favore i carri dovranno restare tutti intorno alla porta ripeto Italia che barca è sfasciata è il titolo di questo carro potete un poco proseguire dietro l'altro carro dietro i pirati delle tasse contrassegnati con il numero uno anche loro la scorsa volta domenica non sono riusciti a passare da questa la gente lo sa ma non ha il coraggio di dirlo dice una scritta una scritta dice togli la mano sono pieni di soldi noi no ecco una barca se va avanti così con il tempo la barca ci vorrà davvero stasera ci vogliamo che galleggi perlomeno intanto i carri stanno andando avanti dopo abbiamo il gruppo i previ del 2000 sono un gruppo mascherato il carro si può fermare fermate il carro tra i due di piccanti in terzo soffro non fatelo avviare fermatelo fermatevi lì fermatevi ecco non andate più avanti vuoi andare più avanti dietro l'altro carro ecco mettetevi l'uno dietro l'altro il più vicino possibile fermatevi tutti lì perché dopo ci sarà la terminazione non mi ferma neanche la pioggia pioggia vera e pioggia di poriano le nuove mogli dovranno ovviamente contenderti il drago e faranno una danza al termine della danza ci sarà quasi un eliminatorio a pallarlo e resterà la moglie del drago perché il titolo del gruppo del carro anzi scusate è proprio nuove mogli per il dragone quindi una danza si starete ad una danza per poco per pochissimo e l'ultima sarà la moglie del drago praticamente resterà solo una ragazza bellissimo ci auguriamo che con la pioggia non si stenga il fuoco del drago ecco può fermarsi ecco fermando il drago noi alziamo un attimo il volume delle cazze e lo ballano le prime due sono state eliminate la macchina appartenuta a Rodolfo Lavantino la macchina che è lavandicinata a Roccovello fuori il concorso dopo ci sarà la previnazione vediamo non restare qua davanti per favore scendete non restate dopo c'è il carro Arlecchino apre le danze dunque Arlecchino apre le danze contrassegnato con il numero due Arlecchino la tipica figura di carnevale la la cucara i dollini e insomma quella che rappresenta quella che rappresenta il carnevale Arlecchino apre le danze vediamo se c'è qualcuno del gruppo che volveria dire qualche cosa vediamo sì sì vanno tanti sono un simbolo di carnevale per piacere sono fatti un tempi attenzione avvertiamo tutti i gruppi e tutti i carri che fra poco ci sarà la premiazione se qualcuno del gruppo del carro della balena animale in via l'estinzione vuole salire a dire qualcosa può farlo voglio dire questo il nostro gruppo è formato da otto componenti da cui cinque come potete vedere inserrebbero le mani e rappresentano i vari continenti che danno il loro aiuto per la per la non estizione della balena uno dei modi per cui la balena viene estinta è come possiamo vedere dalle fecce della caccia dopo di che vi lascio arrivederci ciao grazie e l'ultimo carro è la donna delle auto numero cinque l'ultimo carro la donna delle auto allora se volete fermarvi un buco più avanti volete dire qualcosa alla nonna delle auto prima di tutto vorrei dire che il nostro carro è stato un po' modesto così è stato fatto da ragazzi che hanno 14 anni e siamo pochi poi abbiamo iniziato anche tardi poi questo carro secondo noi rappresenta l'evoluzione che c'è stata durante gli anni dell'auto va bene un applauso anche per questi ragazzi che hanno fatto questo carro ci siamo tutti per tutte le categorie è arrivato il momento più importante della manifestazione cominceremo a premiare i bambini i primi tre bambini è chiaro che è stato allora noi siamo pronti per la musica si fa il sembrale per cortesia qui la pista centrale noi daremo inizio al è stato